In partenza è proprio Idilio BG al comando con all'esterno il deceno lungo la corda Idil del mare, all'esterno anche il misterioso con Idilio BG che ha preso subito il comando delle operazioni e gli altri quindi si vanno ad adeguare con Idilio BG al comando nei confronti di Idil del mare, il misterioso Indocene che non va in corda, va all'esterno Marcello Matti con Indocene che punta a dritto, Idilio BG al comando, adesso c'è la puntata di Indocene a sorpresa dopo 500 metri di gara passati nell'ordine 1.16 con Indocene che vuole dare una bordata preventiva a Idilio BG, Idilio BG che è saldo battistiale, Indocene adesso potrebbe anche tentare un'operazione per mettersi secondo in corda, operazione che Marcello Matti vuole fare, non ferra Idil del mare, così c'è spazio con Idilio BG al comando con un attacco ricevuto già da Indocene, 14.4 per la curva sui 2.000 metri la corsa, adesso Minucci rallenta, 15.6, 30 secco per questi 400 metri, ma c'è stato uno strappo, adesso si va in macchio di trasferimento, Indocene che fa un po' dentro e fuori con Idilio BG Indocene che passa la curva in 16.1, Indocene secondo, poi Idol dei mare, Idil misterioso, Indra Vinci, poi anche Impressivo che è a chiudere il Decio Carre, I Cavalli che passano agli 800 finali, 15.9, Giampaolo Minucci al comando con Idilio BG, Indocene che notta Idilio BG, adesso si affaccia all'esterno della vitruvia, Idilio misterioso, nel frattempo a comando c'è sempre il favorito, con la curva che va via in 15.8, manca da 600 all'arrivo, Idilio BG al comando, adesso arriva Idilio misterioso, Indocene che fa un po' la mozza ruota, quando i Cavalli sono ai 400 finali, 15.1 davanti le tribune, Indocene va con più convinzione all'esterno, su Idilio BG, poi Daldemar e le misteriose che accusano solo a lungo, Indocene cerca di agganciare Idilio BG che però scappa, la curva in 14.7 con Idilio BG che deve guardarsi da Indocene, Indocene stasera fa vedere la classe, passa su Idilio BG, vince Indocene Marcello Matti nei confronti di Idilio BG e poi per il terzo posto da vedere tra il misterioso e il Decio Carro, vittoria di forza, pulita senza ombra di dubbio, Indocene stasera torna a quello milanese e va a vincere, la sgambatura era più bella del solito, era stato visto, 3.47 la quota per il secondo posto Idilio BG che corre comunque bene, mentre per il terzo il misterioso si salva dal rientro di Indocene Carro.